Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con un nuovissimo episodio su The Sims come avete potuto notare nell'episodio di ieri alla fine non sono riuscita a mandare tutta la famiglia a Winterburg perché praticamente i bebè facevano i capricci, non andava bene niente, erano sempre tristi, affamati e quindi alla fine ho guardato troppo i loro bisogni e non sono più riuscita ad andare a Winterburg però in questo episodio subito la prima cosa che facciamo è mandare tutta la famiglia, compresa la famiglia di Jessica a Winterburg perché sono curiosissima di scoprire questo nuovo quartiere, questa nuova espansione con cui ancora non ho avuto modo di giocare quindi direi subito di partire Eccoci qua, ho utilizzato un trucchetto, ho reso tutti felici per non avere problemi sinceramente è una cosa che non mi piace fare, quando gioco non utilizzo quasi mai trucchetti di questo genere né per quanto riguarda le abilità né per quanto riguarda tutti i loro bisogni però in questo caso a giocare online, insomma a giocare insieme a voi diventa un po' più complicato se devo continuamente gestire i loro bisogni come la vescica, il cibo, la fame, l'energia, tutte queste cose devo veramente correre dietro a tutti i loro bisogni e non riesco sempre ad andare avanti con la storia quindi visto che oggi voglio portare tutta la famiglia a Winterburg e ho pensato di mettere tutti i bisogni al massimo così non ci sarà nessun problema come è successo nello scorso video quindi direi subito di partire tra l'altro non so se notate il nuovo pigiamino di Tommy gliel'ho cambiato, gli ho messo questo con i gattini nel frattempo mi sono accorta che è sporco quindi facciamo una cosa, cambiamo soltanto il pannolino allora, altre scelte cura del bebè cambia il pannolino e poi andiamo vi faccio vedere anche la stanza che l'ho sistemata un pochettino visto che Emma è passata da neonata a bebè come potete vedere sono andata a mettere il lettino anche per Emma ho tolto il muro, ho fatto una stanza unica visto che comunque hanno la stessa età e ci sta che i bebè, insomma i fratelli giochino insieme e mi piace molto come è uscita ancora devo finirla ad esempio ho intenzione di mettere un tappeto qua centrale in mezzo alla stanza però lo faremo con calma lei intanto è ma sta giocando vediamo cosa possiamo farle fare riordina i giocattoli per aumentare il se non ricordo male essere viva per aumentare aspettate l'educazione o la responsabilità? la responsabilità sì sistemando i giocattoli esatto quindi facciamo aumentare la responsabilità di Emma che comunque non è altissima anzi è in negativo quasi tutto in negativo anche con il controllo emotivo e l'empatia adesso direi Jessica di organizzare il viaggio allora viaggia e viaggiamo con Emma con Derek con Giorgia sua sorella Tommaso Mark e manca il piccolo Marco dove è Marco? eccolo qua Marco Black ok ed ecco qua entrambe le famiglie al completo direi subito di andare a Winterburg e dove li mandiamo? qua abbiamo la piscina torrente del bagnante che sarebbe interessante anche per i bambini se no ci sono le scogliere scogliere insulare che è molto carina mi interessa sono curiosa di vedere com'è poi qua abbiamo le rovine antiche no? questa è la futura casa insomma per le vacanze di tutti di tutto questo gruppetto di queste due famiglie e quindi dai proviamo qua le scogliere vediamo ecco qua tutta la famiglia innanzitutto vediamo una cosa vediamo cosa c'è qua di interessante allora è un boschetto qua c'è un falò accendi ok poi qua abbiamo un piccolo laghetto molto bello questo questo posto mi piace sì devo dire che è molto molto carino e anche molto grande vediamo cosa possiamo fargli fare allora vediamo un po' basso leggermente il volume intanto facciamo chiacchierare un po' Derek con Mark impara a conoscere poi facciamo prenditi gioco dei babè aziendali con Emma invece presentiamoci al suo cuginetto Marco che sta scappando vieni qua chiama da te parla con il sim estraneo vediamo cosa fanno vediamo intanto Derek e Mark stanno chiacchierando poi magari facciamo fare un bagno in quel laghetto tutti insieme dai Emma vieni qua a conoscere il tuo cuginetto e anche Tommy vieni qua parla del colore preferito così vengono tutti qua li facciamo chiacchierare tutti insieme eccoli qua che carini poi cosa possiamo fare ancora manda via no altre scelte amichevole arrivederci perché ah certo perché lei non parla molto con gli estranei Tommy cosa possiamo fare con Marco vediamo parla delle principesse parla dei paladini parla dei giocattoli vediamo invece Jessica eh non Jessica Emma perché sei triste cosa c'è cosa c'è usa il pannolino combina un pasticcio balbetta fra te e te tra l'altro mi piace il nuovo look di Jessica ho scelto questa conciatura che mi piace un sacco e poi ho messo i pantaloncini e gli shorts di jeans corti visto che è arrivata l'estate e secondo me sta veramente benissimo così super super bene poi li mandiamo tutti in piscina in quel laghetto vediamo se lo trovo non ricordo più dov'era eccoli qua intanto loro stanno chiacchierando vediamo se c'è la possibilità di fare un bagno sì nuota qui insieme nuota senza vestiti insieme addirittura nuota qui insieme vediamo qua abbiamo invece Derek e Giorgia sappiamo del tradimento di Derek ma Giorgia ancora non lo sa però al momento non posso giocare con loro eccoli qua che fanno il bagno eccola qua anche l'entrata in acqua si può usare questo trampolino si tuffati nella piscina salto mortale all'indietro e poi proviamo anche il salto a bomba tuffati nella piscina tuffo a bomba vediamo il tuffo di Jessica voilà che brava poi proviamo un altro un altro tuffo tuffati nella piscina tuffo ad angelo vediamo il tuffo ad angelo com'è e intanto qua abbiamo i bimbi che stanno giocando tra di loro ma Emma dov'è quella che sta arrivando a che bello il salto ad angelo ma i bimbi non possono venire qua vediamo no non possono nuotare chiedi a Jessica di partecipare vediamo 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 cosa succede naturalmente lei fa ancora un tuffo vediamo che tuffo fa vediamola voilà è bravissima comunque dai Tommy vieni qua no non si può nuota qui perché no gioca intanto sta giocando e Emma sta combinando un pasticcio un mega pasticcio un mega mega allora Emma vieni qua da tuo fratello fai delle facce buffe poi abbraccia affettuosamente altre scelte buffo fai delle facce buffe abbiamo già fatto amichevole abbraccia no balbetta vediamo che carini bellissimi mi piacciono un sacco come sono usciti dai abbracciatevi vediamo dai 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 poi cosa possiamo fare Tommy urla contro no di stupidaggini no sta abbracciando il papà ho anche cambiato il look di Tommy ho messo questa bagliettina e dei pantaloni della tuta anche perché non c'è la possibilità per loro di avere i costumini ancora wow che belli che teneri fatemi sapere ragazzi se volete un'altra gravidanza di Jessica anche ragazzi perché siete anche parecchi maschi che guardate questa serie parla della festa altre scelte amichevole parla dell'animale preferito parla dei camion parla dell'animale preferito facciamoli conoscere meglio anche loro mentre invece vediamo se possiamo fare una cosa Jessica con Mark sfogati vediamo perché ah perché è tesa altre scelte romantico fai fichi fichi nel cespuglio no vabbè proviamo vediamo intanto Tommy chiacchiera ancora con racconta una barzelletta toc toc con Emma e poi parla dei paladini parla dei giocattoli insomma chiacchierate un po' vediamo loro dove vanno vediamo vediamo fai fichi fichi nel cespuglio quindi no vabbè ok comunque è bella questa cosa con questa espansione c'è la possibilità di fare fichi fichi anche nel cespuglio evidentemente addirittura i petardi addirittura i petardi eccoli qua vediamo escono anche con calma fanno finta di niente poi vediamo che altro possiamo fare discute delle tecniche di fitness abbraccia affettuosamente e poi visto che è un po' anche loro che non amoreggiano romantico cerca di avere un figlio nel cespuglio esprime affetto bacia anche Jessica è leggermente ingrassata però nel prossimo episodio li mandiamo tutti e due fare un po' di palestra un po' di fitness per dimagrire che carini che sono comunque nonostante tutto sono molto molto carini stringi scatta una foto insieme ma sarebbe carino scattare una foto anche con tutta la famiglia Jessica prende il telefono vediamo manda un saluto dalle scogliere certo perché non dimentichiamoci di questa cosa ultimamente sto snobbando un po' i loro lavori ma Jessica fa l'influencer gestisce insomma un blog fa parte dei social media il suo lavoro è dedicato riguardo i social media e quindi quando lei pubblicizza un prodotto oppure si come in questo caso cos'è che stava facendo mi sono già dimenticata in questo caso ha lanciato un saluto insomma da questa si è mandato un saluto dalle scogliere in questo modo guardate ha raggiunto ha preso altri follower ovvero 1250 follower quindi è quando con questo lavoro quando il personaggio il sim cambia quartiere cambia città va in un locale ha la possibilità di mandare un saluto dal posto dove si trova e quindi ottenere un sacco di follower comunque passiamo di nuovo ai piccoli a Tommy che è qua e ha bisogno di cambiare il pannolino quindi facciamo una cosa Tommy azioni no aspetta non c'è fai un pisolino e combina un pasticcio al pannolino sporco è stata la mia impressione no era una mia impressione ok però non può fare il bagno giusto no sono piccolini niente allora vai dal papà e lotta vediamo questa cosa ancora non l'avevo provata vediamo vediamo ah ok sta leggendo un libro a Emma quindi ok interrotto finito vediamo cosa combinano e poi magari li mandiamo anche in un'altra in un'altra in un bar o in una piscina vediamo no vabbè questa è la lotta che carini e tu Emma gioca con la mamma altre scelte amichevole vediamo se c'è schede didattiche buffo fai delle facce buffe vediamo perfido no aiuto pannolino questi qua si stanno divertendo un sacco intanto guardateli che belli gli fa l'aeroplanino però questa non è una lotta non è una lotta Tommy qua stai giocando soltanto Tommy vediamo soltanto la responsabilità è leggermente negativa tutto il resto è in positivo bene molto bene quindi facciamo una cosa ah non possiamo viaggiare direttamente da qua quindi vai a casa vai a casa sono tornate a casa tra l'altro Jessica è ancora in costume comunque organizziamo subito il nuovo viaggio li mandiamo nuovamente a Winterburg e pensavo di mandarli in piscina se no che altro c'è la palestra non è indicata per i bambini il locale notturno nemmeno questa invece è una piazza è un parco se no abbiamo il un bar lì per i porcospino questo invece è una lucana del vecchio quartiere ho cambiato i look visto che Jessica era ancora Jessica e Mark erano ancora in costume per Jessica ho mantenuto il look di prima mentre per Mark invece ho scelto questo look una maglietta maniche corte dei jeans abbastanza skinny e le all star invece per la piccola Emma ho cambiato acconciatura le ho messo questa che mi piace molto con il completino di Bambi e invece Tommaso che dove sta andando eccolo qua guardate come ha vestito bene anche Tommy molto molto carino Tommy dove stai andando curiosone vieni qua io direi di ordinare qualcosa vediamo altre scelte ordina una bevanda da consumare sul posto caffè americano caffè espresso cappuccino facciamo un cappuccino ma non c'è la possibilità di ordinare anche qualcosa per i bambini vediamo altre scelte no perché c'è ordina una bevanda ordina del cibo ordina una bevanda da sporto però no comunque sono sempre le stesse non c'è la possibilità di prendere qualcosa anche per i bambini a proposito di bambini dove sono dove sono finiti eccoli qua stanno chiacchierando è l'unica cosa che sono qua da soli praticamente vabbè fa niente non perché i genitori si mangiano un cornetto bevono un caffè alle 10 di sera facciamoli un po' chiacchierare allora parla della festa fai delle facce buffe poi Emma prova a parlare con Marco parla con il simestraneo perché lei è molto riservata i nonne non parla molto con gli estrani come potete notare anche questo locale è molto carino l'unica cosa peccato che non si possa ordinare del cibo anche per i bebè peccato peccato perché mi sarebbe piaciuto ordinare del cibo anche per loro questo è il locale non l'avevo guardato prima visto da fuori i bimbi sono qua ed è molto carino molto carino poi guardate anche quello che c'è intorno queste fontane molto bello tutto illuminato ah qua sopra ci sono i bagni ok ci sono dei bagni c'è anche una zona non so perché ci siano dei vestiti in un bar comunque ah l'ufficio l'ufficio forse del proprietario e sotto c'è il bar molto carino il bar questo caffè molto molto carino qua ci sono anche dei libri legge al bebè però non si può perché non sono presenti i libri per ah ok non ci sono proprio i libri per bebè niente vediamo dove sono eccoli qua facciamo un'ultima cosa Jessica chiacchiere un attimo con tua sorella vediamo cosa possiamo fare fai un discorso esortativo colpo d'anca eeeh non c'è più niente entusiasmati per gli interessi poi che altro possiamo fare colpo d'anca ecco qua vediamo intanto i bimbi là dietro stanno combinando pasticci stanno giocando e c'è Tommy che si sta addormentando quindi facciamo una cosa andiamo a casa andiamo tutti a casa saluta Giorgia e poi andiamo a casa vediamo dai consigli genitoriali ah carina questa cosa non l'avevo ancora notata questa interazione altre scelte genitorialità facciamo no cura del bebè metti a letto non si può certo perché sono fuori quindi è meglio andare a casa nel frattempo è arrivato un sms di ajar correvoce che proprio ora ci sia una festa scatenata alla magione ti va di venire con me il messaggio è per per Mark giardini della magione tenuta vuole in festa accetta e seleziona i sim con cui viaggiare andiamo con Jessica con Dere che con Giorgia mentre i bambini li portiamo a casa dalla babysitter perché altrimenti è ingestibile eccoci qua alla festa festa di ballo vediamo cosa bisogna fare ah niente non ci dicono niente è tempo rimasto 5 ore clicca sul pulsante per terminare l'evento no bambino vediamo innanzitutto guardiamo un attimo il locale è questo molto carino molto molto carino vediamo anche i piani superiori ecco qua è gigante è grandissimo è veramente grandissimo quanto c'è un sacco di giardino ci sono le fontane qua c'è un DJ console del DJ che bello che è veramente grandissimo poi qua abbiamo altre fontane per i matrimoni che bello tra l'altro eh sono le due di notte è tardissimo se i bambini era meglio portarli a casa però non possono andare a casa acquisita l'abilità di ballo facciamo ballare un po' battaglia di ballo vediamo cosa fa battaglia di ballo con Giorgia ah che sta dormendo va bene niente acquisita l'abilità di ballo ancora non aveva ballato Jessica è andata a chiamare sua sorella vediamo cosa combinano poi che altro possiamo fare sfoggia movenze fascino del braccio guardate questo come ci prova con Giorgia e Derek vediamo cosa fa se fa qualcosa se interviene o se fa finta di niente comunque loro stanno ballando continuiamo a farle ballare un po' per divertirsi Mark vieni qua anche tu vediamo balla insieme è quelli qua che stanno ballando tutti insieme insieme no vabbè guardate Jessica è stordito un sim stordito si sente un po' confuso e ha difficoltà a fare cose utili prova a schiacciare un veloce pisolino vuole fare un bel bagno è stanca anche lei guardatela dunque continua a ballare per curiosità vediamo dove sono i bambini ah ma sono qua anche loro che ballano non ci credo stanno ballando anche loro che carini niente dai io direi che questo episodio può anche terminare qua adesso faccio finire anche la festa li mando tutti a casa perché sono stanchi perché sono le 4 del mattino e i bambini sono ancora svegli e niente io spero che questo video vi sia piaciuto come sempre mettete un bel pollice in su iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video i prossimi episodi e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao 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 ciao